Presentiamo le nuove attività dell'Associazione Sempre Positivi. Innanzitutto l'associazione di cosa si occupa? L'associazione Sempre Positivi nasce nel 2005, è formata da prevalentemente professionisti del settore socio-psicopedagogico e si occupa di progettualità sociale. Abbiamo iniziato con gli adolescenti, poi questa progettualità è diventata anche indiretta perché adesso ci stiamo occupando anche di genitori, di famiglie. Quindi adesso è l'area degli adolescenti che riguarda sia i progetti che si fanno nell'associazione e quelli che vengono fatti nelle scuole a retine e poi anche i progetti con i genitori, uno per esempio è la scuola genitori. L'associazione Sempre Positivi fa rete anche sul territorio occupandosi proprio dei temi appunto della famiglia, in che modo? È membro tra i vari fondatori del coordinamento a FIDAR e il coordinamento a FIDAR si occupa di benessere delle famiglie in generale con un'ottica particolare nei confronti dell'affido e dell'adozione. E tra l'altro quest'anno il coordinamento a FIDAR rinnova il protocollo di intesa con il Comune di Arezzo per la sensibilizzazione sul tema dell'affido. Una delle prossime attività proprio di Sempre Positivi sarà Ludo Giocando. Quando si svolgerà e qual è il programma? Ludo Giocando è un corso di aggiornamento e formazione intensivo di 12 ore che si svolgerà il 16 e il 17 di marzo aperto a 14 iscritti. È un percorso di educazione attiva ludica, quindi spazzeremo dal gioco di ruolo al gioco teatrale, giochi di strategia e tattica, collaborativi e competitivi. È un corso aperto oltre che agli appassionati anche agli operatori, operatori, volontari, insegnanti, allenatori, educatori, quindi tutti quelli che hanno a che fare con i bambini, gli adolescenti a livello ludico, educativo. E Sempre Positivi organizza anche dei laboratori. Allora, uno è un laboratorio di tipo artistico rivolto ai bambini, è un corso di disegno, illustrazione e fumetto che si svolge tutti martedì, ad eccezione di domani che è carnevale, dalle 5.30 alle 19.00. E poi in realtà sarebbe aperto anche ai giovani e agli adulti il giovedì. Vediamo un po' se cresce l'interesse, ecco. All'interno dei laboratori quali sono le attività che vengono realizzate? Con i bambini abbiamo studiato un po' lo sviluppo dei personaggi, dell'espressività, la colorazione sia con le tempere, con le matite e varie tecniche, anche di brevi sceneggiature per i fumetti. Accanto a questi laboratori ce ne sono poi altri che partiranno prossimamente. Sì, il 20 marzo presentiamo un nuovo laboratorio di discussione che ha come tema le serie TV. Si parte da una serie TV di scelta che è proposta, che è Umbrella Academy. Praticamente è un laboratorio di discussione sulle caratteristiche dei personaggi, la loro relazione. Andiamo a scoprire come la narrazione delle serie TV può essere utile nella vita di tutti i giorni.